in team con utao ok tanto support trust tickets ok ci sta 3 e 4 secondo me lo facciamo alla grande ok 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 si conventi se c'è una moto più facile ok no 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 Grazie a tutti What the fuck? What the fuck? Ah, continua a far dam continuo quella merda! Io che ne sapevo! Io dovevo che stava morendo e dicevo, ma che cazzo è possibile, non c'è nulla qua! 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 Minutati! Volete! waiting! Ehi! Mega! Ehi! Tanto l'ultima non ci serve per quelli. Per questi invece sì, ci serve. A presto. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Porco dio me la metti in culo. Scusate. Vai scappato. 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 Alla prossima.